Marco Cadedu di Esatur Group, comitato organizzatore di questo grande evento che comincerà il 17 settembre, i campionati europei di ginnastica, evento che comincia alla grandissima con la presenza delle farfalle azzurre reduce dalle Olimpiadi di Tokyo, prima giornata ma ci sarà tanto altro. Sì, ci sarà tanto altro, tengo a precisare che sono i campionati europei di ginnastica aerobica ed acrobatica, quindi due specialità diciamo minori rispetto alla ritmica e all'artistica ma non di mena spettacolarità e sicuramente di fascino. Le farfalle impreziosiranno la cerimonia d'apertura, come hai detto, venerdì alle ore 16 e questo è un grossissimo colpo della Federazione Ginnastica d'Italia perché avere come ospiti un bronzo olimpico non è da tutti i giorni. Naturalmente per chi volesse acquistare un biglietto sono disponibili presso tutti i punti vendita di Viva Ticket, nonché online. Il costo del biglietto, lo ricordo, è giornaliero e costa 20 euro per tutti i giorni, tranne le tre domeniche, che sono i giorni in cui si disputano le finali, in cui il biglietto costa 25 euro. È un posto unico che permette di accedere nella tribuna principale proprio fronte palco e fronte podio di competizione. Ne approfitto anche per ringraziare la Federazione Ginnastica d'Italia che ha permesso a Pesaro di candidarsi e di vincere contro altre destinazioni che avevano messo in campo tutta la loro professionalità. Naturalmente alla Federazione Europea di Ginnastica sarà presente anche il presidente Farid Gaibov che sarà qui a Pesaro appunto in questo weekend, il comune di Pesaro che ha messo a disposizione la Vitri Frigo Arena insieme all'Aspes e le tante collaborazioni che abbiamo trovato grazie all'intervento del comune con le scuole pesaresi. Ricordo che il logo che potete appunto vedere è stato realizzato dai ragazzi del liceo artistico Mengaroni, ma un ringraziamento anche ai dirigenti scolastici del Marconi, del Mamiani e dell'Istituto Alberghiero che ci forniscono lo staff nella dimensione del progetto scuola lavoro.